Il più grande punto di forza di una casa intelligente è la sua flessibilità, che si tratti di un elegante loft, di un idilliaca casa a graticcio, di un appartamento condiviso o di un seminterrato. Ogni casa può essere adattata in modo intelligente e gestita automaticamente. Vi mostriamo quali sono i dispositivi per la casa intelligente che anche i principianti possono collegare in rete da soli e dove è meglio rivolgersi ai professionisti. Pochi accorgimenti possono aumentare enormemente il comfort slavuna dobstock. Cosa caratterizza una casa intelligente? Rendere intelligenti gli elettrodomestici esistenti. Ecco come fare controllare a distanza i piccoli elettrodomestici con un adattatore. Wi-Fi è un pulsante automatizzare in modo intelligente i grandi elettrodomestici come massimizzare la comodità con automatismi e routine. Cosa caratterizza una casa intelligente? In una casa intelligente, i vari elettrodomestici interagiscono tra loro in modo automatico. L'uso di robot per le pulizie o di luci a comando vocale, ad esempio, elimina la necessità di noiosi interventi manuali. Anche i termostati di riscaldamento, gli elettrodomestici da cucina e persino le telecamere di sorveglianza si adattano automaticamente alle esigenze e alle abitudini degli occupanti e non devono essere azionati manualmente. I principianti possono optare per dispositivi autonomi o per un sistema con centro di controllo, ad esempio, il server Enet di Gira o Jung. Le soluzioni standalone, che di solito possono essere controllate tramite un'app o un'assistente vocale, sono particolarmente adatte per i neofite che vogliono provare le funzioni smart o per gli utenti che vogliono controllare solo pochi dispositivi a distanza. Tuttavia, se ne acquistate molti, potreste dover configurare e utilizzare un'app separata per ciascuno di essi. Il risultato è spesso un insieme di soluzioni autonome che non sono compatibili tra loro. In altre parole, non è nello spirito del Idea di casa intelligente Per questo motivo, gli utenti che desiderano controllare in modo intelligente l'intera abitazione a lungo termine dovrebbero considerare L'acquisto di un sistema di smart home Il sistema professionale Enet Smart Home, ad esempio, offre soluzioni per sofisticati edifici di nuova costruzione e anche per vecchi Edifici con requisiti di edilizia vincolata, che possono essere adattati senza interventi strutturali grazie a soluzioni basate sul radio Grazie ai partner di assistenza regionali, questo sistema può anche essere adattato tempestivamente alle esigenze specifiche dell'azienda E viene garantito un supporto a lungo termine per domande e manutenzione Ad esempio, gli esperti di Enet Smart Home hanno già installato accenti intelligenti in un ristorante Rendere intelligenti gli elettrodomestici esistenti, ecco come fare Mentre molti piccoli elettrodomestici possono essere installati in pochi minuti Il collegamento in rete di un sistema di riscaldamento complesso e controllato in modo intelligente, ad esempio, è una sfida molto più ardua I singoli termostati, invece, possono essere resi intelligenti con tado grado Prima di iniziare l'automazione domestica, gli utenti dovrebbero riflettere attentamente su quanto ampia debba essere l'automazione domestica e su quanto possano fare da soli Infatti, maggiore è il numero di dispositivi collegati, maggiore sarà l'installazione e la configurazione dei singoli dispositivi Se volete andare sul sicuro, potete anche rivolgervi a un partner specializzato, soprattutto se volete approfittare delle sovvenzioni KFW Questi richiedono che l'installazione sia effettuata da un'azienda specializzata in conto vendita Controllare a distanza i piccoli elettrodomestici con un adattatore Wi-Fi e un pulsante Le prese WLAN, economiche e commutabili, disponibili a partire da 10 euro, sono adatte per l'installazione a posteriori di singole lampade o di un ventilatore, ad esempio Si attaccano a una normal presa di corrente e gestiscono l'alimentazione di altri elettrodomestici tramite controllo vocale o tramite app Tuttavia, le prese Wi-Fi intelligenti possono solo accendere e spegnere i normali elettrodomestici, ma non possono dimerare le lampade o accedere ad altre funzioni specifiche del dispositivo Quindi, se ad esempio si vuole portare il ventilatore dal livello 1 al 3, è necessario farlo da soli